Luciano Fior, comandante della Polizia Provinciale di Padova, parliamo di bracconaggio, quali sono i settori che più vi impegnano e la situazione anche dei colli per quanto riguarda i cinghiali? Allora abbiamo due tipologie di bracconaggio in atto in questi momenti ed è quello relativo all'attività di pesca e quello sui cinghiali, sui colli ugani. Allora in particolare quello sui cinghiali ha visto protagonista la Polizia Provinciale in questi giorni che ha assicurato alla giustizia un bracconiere colto in fragranza proprio nella serata in cui si svolgeva la finale della Coppa dei Campioni tra la Juventus e il Barcellona. Noi sapevamo che in quelle occasioni qualcuno si avventura perché pensa che tutti siano lì a guardare la partita e noi sapevamo che c'era, abbiamo avuto un po' una segnalazione, che c'era questo individuo che già conoscevamo e l'abbiamo colto con l'arma in mano proprio all'interno del parco dei Colli Ugani, quindi è stata una brillante operazione messa in atto dai nostri uomini che sono sempre lì attenti e sono fuori per queste cose. Per quanto riguarda poi l'attività di pesca abbiamo due tipologie di intervento di bracconaggio, uno nell'area a nord e nell'area pregiata del Brenta dove attualmente sono prese di mira le trote marmorate e qui ci sono delle persone abitudinarie che addirittura si vantano poi anche in internet, diciamo in facebook e di qua e di là pubblicano poi le loro catture e noi veniamo a sapere anche attraverso poi segnalazioni da parte dei cittadini guarda che è presente e quindi stiamo in questo momento curando in particolare la vigilanza in quell'area. Altra zona che ci sta dando notevoli pensieri Grattacapi è quella a sud dove c'è un'invasione praticamente di bracconaggio se si può chiamare così perché anche lì sono dei pescatori di mestiere con licenza di tipologia di tipo A che stanno dando la caccia al siluro per loro una specie pregiata per la loro cultura e la carne per loro è un motivo di qualcosa che per loro nella loro cucina è di tradizione eccetera. Per noi non è insignificante però nell'ambito delle catture del siluro loro praticamente mettono in atto la raccolta di tutto quello che gli viene sotto mano quindi carpe, tutte queste tipologie di pesci che noi tuteliamo e che sono abiti dai pescatori della nostra zona del sud vengono catturate quindi depredate e lasciano praticamente il territorio scoperto di questa tipologia di pesci.